La Federazione Scacchistica Italiana ha formalizzato il riconoscimento alla città di San Severino Marche di Città Amica degli Scacchi, consegnando al primo cittadino settempedano la targa della FSI. La cerimonia si è tenuta al Teatro Feronia, alla presenza del Presidente nazionale della stessa Luigi Maggi e del Vice Presidente Lorenzo Antonelli, che hanno ricordato la grande capacità organizzativa della città di creare eventi per appassionati del mondo della scacchiera. Alla cerimonio ufficiale di consegna di sabato 27 gennaio si è affiancata l'organizzazione di un incontro dal titolo Gli Scacchi, strategie contro il bullismo, presentato da Marco Moscatelli. Al sindaco Rosa Piermattei è stata consegnata quest'oggi questa targa come San Severino, città amica degli scacchi, un bel riconoscimento per questa realtà. Sì, è un bellissimo riconoscimento che la città di San Severino Marche merita perché gli scacchi è una cosa insita e fondamentale nella città, in quanto abbiamo un'associazione che sta lavorando da tantissimi anni, ma soprattutto nel periodo di Covid. Quindi è molto importante per i ragazzi, abbiamo una presidente molto attiva a cui noi siamo riconoscenti proprio per tutto quello che fa e soprattutto perché è continuamente con i giovani, quindi noi ne siamo orgogliosi che siamo riusciti a ottenere questo traguardo perché noi abbiamo una bellissima piazza e il mio sogno è di poter fare una gara a livello nazionale, perché no, oppure anche a livello cittadino, ma fare proprio una scacchiera all'interno della nostra piazza. I ragazzi protagonisti di questa mattinata, grazie ai vari interventi dei relatori ospiti che sono intervenuti, si è parlato anche di strategie contro il bullismo. Sì, purtroppo è un male che noi viviamo sia nella città sia proprio a livello nazionale, quindi questi incontri sono molto importanti perché dobbiamo insegnare ai ragazzi che non devono subire magari maltrattamenti o bullismo da parte dei compagni o della società, quindi è giusto che siano presenti i ragazzi, è giusto che le associazioni o le istituzioni facciano questi incontri in modo che si possano evitare delle brutte situazioni. In parte l'ho già detto, ma che cosa augura all'Associazione La Torre Smeducci da qui al futuro prossimo? L'Associazione Torre degli Smeducci merita tantissimo perché si impegnano continuamente e soprattutto fa del bene ai giovani, quindi in futuro io mi auguro che la città di San Severino grazie a questa associazione possa diventare una città degli scacchi, non solo amica. Grande merito per l'assegnazione del riconoscimento è andato alla settempedana Caterina Ciambotti, presidente dell'ASD La Torre Smeducci, che lo scorso anno aveva già ricevuto una prestigiosa benemerenza a livello nazionale. È una bella soddisfazione, è un'idea che era venuta a me personalmente, la sindaca me l'ha appoggiata subito, abbiamo presentato tutte le varie documentazioni e quindi il discorso è andato nel migliore dei mori. Abbiamo avuto l'onore di avere qui il presidente federale nazionale e il vicepresidente, quindi siamo onorati di tutta questa situazione e di portare avanti l'attività scacchistica in maniera corretta e in maniera semplice, in maniera tale che dà ai ragazzi una grossa potenzialità per il rispetto delle regole e per l'attività futura che potranno avere successivamente. Per quest'anno intanto abbiamo aperto una sede nuova del circolo in Borgo Conce, vicino alla scuola media perché lì fanno lezioni anche i ragazzi, quindi è conveniente per i genitori portarli senza avere troppi problemi dall'uscita della scuola a portarli a giocare a scacchi. Abbiamo la possibilità di poter fare dei corsi, lo sto facendo per le mie amiche dell'età mia e stiamo andando avanti con la memorizzazione degli scacchi, anche poi imparare la partita, perché no? Chiedo qualcuno di essere a dire, comunque c'è collegamento sulla pagina Sanseverino Scacchi su Facebook. Stiamo concludendo anche un progetto italiano che coinvolge 14 regioni e nelle 14 regioni ci siamo anche noi. Adesso a fine aprile faremo una bella manifestazione per chiudere questo progetto. Avremo poi delle manifestazioni a livello scolastico per quanto riguarda la fase provinciale e regionale di TSS che nella regione si stanno attualmente organizzando. Immenso il valore degli scacchi, questo è quanto è stato sottolineato dal presidente Maggi nel proprio saluto istituzionale, rivolto ad una platea a cui erano presenti numerosi studenti nel formare e nell'aiutare i giovani a socializzare e alle gare con qualche particolare disciplina sportiva riconosciuta anche dal CONI. Con il presidente Luigi Maggi della Federazione Scacchistica Italiana parliamo di questo bel riconoscimento di città amica degli scacchi ottenuto proprio dalla città settempedana. Sì, è un riconoscimento perché abbiamo voluto dare merito all'amministrazione comunale del loro interesse e partecipazione e coinvolgimento proprio nella promozione delle attività scacchistiche. Una targa di cui la città di San Severino Marche si vanta anche perché la Torre Smeducci a livello associativo sta facendo davvero tanto, soprattutto in questi ultimi anni e con i piccoli giovani giocatori. È proprio così. La Torre Smeducci sta facendo un grande lavoro sul territorio e diciamo con un'opera molto intensa all'interno delle scuole dunque con i giovanissimi, dove gli scacchi sono veramente una marcia in più specialmente per tutta una serie di competenze che vengono acquisite grazie proprio al gioco degli scacchi. E proprio i giovani forse imparano prima di chiunque altro le regole per iniziare a giocare correttamente e al meglio. Direi che avete toccato un punto importante, è proprio così. I giovani imparano le regole, ma queste regole rimarranno per tutta la vita che non sono le regole del gioco stesso ma è proprio della convivenza civile perché a noi ci interessa avere non solo buoni giocatori ma ci interessa che siano poi dei buoni cittadini. Quest'oggi, in questa giornata davvero particolare, si affronta anche un tema purtroppo estremamente attuale che è quello del bullismo. Come gli scacchi possono aiutare i giovani a superare questa problematica? Gli scacchi consente di acquisire una serie di competenze. Nel caso del bullismo, la disciplina, l'autocontrollo, gli immedesimarsi nell'altra persona inducono a ridurre atteggiamenti tipici del bullismo. A livello nazionale, quanti sono al momento i giocatori di scacchi anche ad alti livelli? Dunque, attualmente noi abbiamo oltre 21.000 tesserati, quasi il 60% sono sotto i 18 anni. Poi ogni anno facciamo una formazione all'incirca di circa 100.000 ragazzi all'interno della scuola. Gli scacchi sono uno sport e un gioco straordinariamente diffuso al mondo. Nel mondo si parla quasi di un miliardo di praticanti e contiamo che effettivamente cresca molto e anche in termini di qualità, anche in Italia. Anche perché ci sono diversi giocatori prodigio? Direi buoni giocatori che danno buone promesse. Saranno prodigio? Lo vedremo poi in base ai risultati. Io sarei più prudente, anche perché non vorrei caricare troppo di responsabilità, soprattutto i giovani. I giovani devono giocare per il piacere di giocare. Se hanno le qualità, le dimostreranno nel tempo e noi le aiuteremo a tirarle fuori. Con il vicepresidente della federazione, Lorenzo Antonelli, entriamo più nello specifico del gioco degli scacchi, partendo proprio da quella che è una vera e propria per lei esperienza personale. Sì, esperienza personale, è vero. Io moltissimi anni fa ho cominciato ad accompagnare mia figlia al circolo di scacchi della mia città ed è nata così la passione anche per me, perché nel mondo dei ragazzi è bellissimo vedere le partite che iniziano con la stretta di mano, il grande rispetto che c'è tra di loro. Uno spirito agonistico molto ben controllato. Questo mondo mi ha affascinato e ho messo anche il mio impegno modestamente. Insomma, ho provato anche io e mi ha affascinato. Oggi vivo delle esperienze come dirigente della federazione particolari. Mi fa piacere citarne una di recente con dei ragazzi di 14 anni, quando al momento della premiazione consegni il premio e il ragazzo dice non lo merito io perché il mio avversario era più forte. È qualcosa di veramente emozionante che dà grande commozione. Parliamo proprio delle regole. Per chi, ad esempio come me, non sa giocare a scacchi, da dove si può partire? Perché lo ricordiamo che si può iniziare a qualsiasi età. È certo, non c'è limite. Si può partire a qualsiasi età. Le regole vanno, è il primo passo per avvicinarsi al mondo degli scacchi. Occorre un istruttore in gamba per poter introdurre, si parte con le storie, con le favole degli inizi del gioco degli scacchi e poi si entra sulla scacchiera andando a vedere i singoli pezzi. Ci sono degli istruttori, quelli che si avvicinano al mondo giovanile della scuola, che raccontano storielle sulla torre, sul re e sulla regina, che affascinano i ragazzi e li avvicinano al gioco recependo le regole basilari. Tanti ragazzi presenti anche quest'oggi, durante questa mattinata, dedicata ad affrontare la tematica del bullismo. È vero, è molto bello. Vedo le scuole di San Severino, come ha prima citato il Presidente, San Severino è una città molto vicina agli scacchi, tanto da meritare questo riconoscimento. Grazie all'attività del circo locale La Torre Smeducci e nei progetti sociali, come quello per il bullismo, gli scacchi possono dare davvero un grande contributo. Agli ospiti si sono aggiunti anche Stefano Belardinelli, Presidente del Cusse Camerino, e Marco Pelagalli, referente della Torre degli Smeducci. Anche il Cusse Camerino presente quest'oggi, nella persona del Presidente Stefano Belardinelli, per partecipare a questa mattinata è dedicata al gioco degli scacchi. Al gioco degli scacchi e a questo importante aspetto sociale del bullismo. Perché lo assogiamo allo sport? Perché lo sport in qualche modo favorisce l'aggregazione, quella reale, quella dove si sta insieme, dove lavora il gruppo, non il singolo, dove se qualche ragazzo ha qualche dubbio di comportarsi più o meno bene con il compagno, aiutato dagli altri magari si comporta bene. Dove lo sport va verso più un aspetto inclusivo. I normododati stanno insieme e riescono a fare sport. In tanti progetti noi li abbiamo dimostrato, nella pallavolo, nel tennis tavolo, dove un normododato può stare insieme a un ragazzo che magari ha delle abilità diverse e che comunque è utile al gruppo per fare sport. Addirittura anche negli sport come gli scacchi, come potrebbero essere i giochi elettronici, adesso si parla di sport elettronici, bisogna favorire comunque il ritrovarsi in punto aggregazione e evitare che il ragazzo rimanga da solo, magari con lo strumento, con il computer e in rete e potrebbe fare ugualmente qualche sport. I scacchi si possono fare anche a distanza, però è meglio farli di persona. E poi abbiamo visto che proprio questo è l'aspetto principale, poter far incontrare i ragazzi e farli stare insieme è il modo migliore per far integrare anche chi magari viene percepito in maniera errata diverso e spesso può essere discriminato. Sugli scacchi per noi è un momento felicissimo. La passata edizione, quella del 2023, dei campionati nazionali universitari è stata la prima in assoluto dove sono fatti anche i campionati nazionali di scacchi. Qui a San Severino Marche, grazie all'associazione degli scacchi che opera benissimo qui, ma non solo qui in tutta Italia e in particolare nella regione Marche, abbiamo potuto inserire questo sport che ha un grande successo tra gli studenti universitari perché è comunque una disciplina di grande ragionamento che allena la mente e capite che anche i ragazzi magari in special modo, quelli che praticano le discipline dure come la matematica, la fisica e l'informatica si ritrovano bene anche a giocare a scacchi. Oggi abbiamo avuto una bellissima manifestazione al Teatro Ferronia è stata una bella partecipazione anche dei ragazzi sono venuti da vari istituti e spero che sia stato utile per loro e riusciranno a comprendere l'importanza di questo tema che è sempre più presente purtroppo nella società attuale. L'attività che noi proponiamo è alla scuola quindi all'interno del gruppo classe abbiamo un po' tutte le fasce di età a partire dall'ultimo anno della scuola d'infanzia quindi cinque anni per poi arrivare anche alle scuole medie e qualcosa anche delle scuole superiori. Il bello di questa attività è capire tramite gli scacchi qual è il loro atteggiamento cioè ogni ragazzo ovviamente è diverso e con gli scacchi, con il gioco più che altro perché con gli scacchi si riesce subito a capire dove bisogna andare a parare quindi dove possiamo noi aiutare il ragazzo tramite gli scacchi. Gli scacchi sono arte, scienza e sport dicevano e questo in realtà è vero nel senso ci insegnano a vivere perché la cosa più importante per uno scacchista è cercare di capire in primis il tuo piano cosa vorrai fare e poi vedere se è attuabile quindi intrecciare il tuo pensiero con il pensiero al tuo avversario e questo è un po' quello che succede nella vita perché nelle scelte di tutti i giorni noi dobbiamo capire se quella cosa che scegliamo è conveniente per noi e poi anche se è attuabile quindi spero che ecco questo è il ragionamento che dà uno scacchista è diverso secondo me da un ragionamento di una persona che non ha mai giocato a scacchi. Dopo i saluti istituzionali si sono registrate le relazioni e gli interventi della docente UniMC Alessandra Fermani dello psicologo Filippo Persichetti e dell'istruttore Carla Mircoli Io ho voluto dire che non c'è un bullo che è l'unico colpevole di tutte le sue azioni è chiaro che la responsabilità personale è importante ma che c'è comunque un contesto che in qualche modo va ad agire ad incentivare a creare quello che è un po' il frame il contorno la cornice poi dell'atto di bullismo purtroppo quando parliamo di cyberbullismo noi siamo di fronte a un frame quasi inesistente perché i bulli commettono le loro azioni all'interno delle loro camere basta un solo cellulare e spesso non c'è la supervisione di un adulto io credo che interventi come quelli che sono stati fatti oggi qui sul palco del Feronia e quindi interventi di sensibilizzazione di educazione nella scuola a 360 gradi per chi è docente per chi è genitore e naturalmente per chi è studente siano veramente molto importanti il bullo non è un figo il bullo è uno che se gli chiedi come ti senti dal punto di vista identitario ti dice io sono il più figo però se gli incomincio a dire come ti senti con i tuoi amici lui mi dice ah quella manco mi ha invitato alla festa però sono andato lo stesso ho fatto un casino se gli dico ecco i genitori non vedo l'ora di andarmene di casa ma tanto prima o poi scappo se gli dico e come stai con i tuoi professori la scuola ci vado fino a 16 anni perché ci devo proprio andare poi non vedo l'ora di andarmene allora vedete che di figo non ha proprio nulla è un insoddisfatto perenne e ho fatto riferimento al desiderio perché ci troviamo di fronte a una generazione dove paradossalmente tutto dovrebbe filare abbastanza liscio e in realtà lo vediamo anche all'università è una generazione molto molto fragile questo spesso è determinato da una forte competitività e da un'assenza appunto di desiderio che viene inculcato sotto il profilo culturale un po' fino dalla nascita i nostri ragazzi non hanno desideri perché hanno tutto e quindi in qualche maniera come dicevo prima hanno bisogno di un catalogo anche per scegliere un regalo di Natale e d'altro lato hanno il bisogno di far riferimento all'adulto solo ed esclusivamente per avere degli oggetti che compensano l'affettività e questo li rende molto fragili tra l'altro con delle famiglie che sono spesso in qualche maniera molto pressanti che guardano molto alla prestazione e anche questo io credo che sia un problema del nostro sociale della nostra società su cui dovremmo molto lavorare i figli sono qualcosa di diverso rispetto a noi genitori e non dobbiamo caricarli di quelli che sono stati i nostri sogni sono delle individualità singole ed è giusto che vivano la loro vita secondo i loro desideri e non quelli degli adulti perché dobbiamo occuparci di bullismo? perché è un diritto sottolineato dalla carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di ogni ragazzo di andare a scuola tranquillo senza paura senza pensare di essere sopraffatto o di avere terrore di fare qualcosa che è importante per la sua vita i segnali per intervenire sul bullismo sono molteplici e vanno riconosciuti un po' dalla famiglia principalmente perché il ragazzo magari non vuole non vuole più andare a scuola è triste mangia meno mangia più sono dei problemi alimentari disturbi del sonno mostra ansia preoccupazioni che prima non aveva questo potrebbe essere uno dei segnali che ci porta ad avere un campanello di allarme c'è bullismo nella vostra scuola rosso è sì blu è no ho cercato di coinvolgere i ragazzi che capisco che a 16, 17, 18 anni stanno lì in un teatro ad ascoltare delle persone che parlano di cose che per loro sono anche complesse è difficile quindi abbiamo fatto questo sondaggio con un'applicazione gratuita insomma in cui ho chiesto se c'erano del bullismo a scuola e se sapevano come comportarsi quando vedevano dei segnali nella loro classe in diretta vi do anche le percentuale sì 70% no 30% questo è un dato che può essere utile anche per gli insegnanti e per voi secondo sondaggio sapete cosa fare se notate segnali di bullismo nella vostra classe sì rosso no nero lo codice è lo stesso no blu scusate sapete cosa fare se notate segnali di bullismo nella vostra classe è stato c'è stata una buona risposta hanno risposto in 100 ma sapevo che ragazzi subito appena i sensibili i stimoli in questo sono molto attivi ricettivi sì 84% no 16% brava alla scuola che dà le giuste informazioni quel 16% andrà educato grazie ragazzi e poi niente alla fine ho ho segnalato la possibilità che qualcuno di loro si riconoscesse o nella vittima o nel bullo o nel sostenitore o nell'aiutante diciamo con alcune frasi che potevano essere legate a dei modelli cognitivi e dei pensieri che sono caratteristiche personali di queste categorie relative al bullismo se ti ritrovi in questa affermazione spesso prendo in giro i compagni li pinaccio sono aggressivo con loro così mi sento il più forte c'è qualche problema ditelo fatevi aiutare è importante non tenete non tenetevi le cose dentro hai bisogno di aiuto se ti ritrovi in questa affermazione sono spesso deriso dai compagni mi sento isolato ricevo insulti minacce e mi costringono a fare cose che non voglio parlane non sei tu ad essere sbagliato chiedi aiuto ma anche se ho assistito a scene aggressive di derisione di violenza verso qualcuno parlane non è fare la spia dipende da che punto di vista lo vediamo ma a volte aiutare gli altri perché come avete visto Alice ha avuto difficoltà a farsi carico di esporsi e di raccontare la sua storia magari anche qualche vostro compagno ce l'ha Carla Mirkoli è un istruttore della Federazione Scacchistica Italiana tra i relatori presenti alla giornata di quest'oggi davvero interessante il suo incontro si è focalizzata su alcune cose davvero fondamentali per questo gioco si principalmente il rispetto delle regole perché le regole negli scacchi sono diciamo di due tipi quelle che riguardano prettamente il gioco e quelle comportamentali ed è proprio quelle comportamentali che possono essere di prevenzione nei confronti del bullismo ad esempio il fatto che diamo la mano all'inizio della partita ma soprattutto il fatto che alla fine della partita i giocatori analizzano quello che hanno fatto quindi c'è questo modo di relazionarsi con l'avversario che poi diventa l'amico che ti aiuta ad analizzare i tuoi errori si può iniziare a giocare sin da piccolissimi sì noi lo facciamo sulla scacchiera gigante con i progetti di gioco motricità a partire dai quattro anni e mezzo per cui i bambini iniziano a giocare sulla scacchiera iniziando quindi a conoscere orizzontale e verticale magari dicendo andiamo avanti come il naso di Pinocchio oppure andiamo in orizzontale come le ali di un aereo e da qui poi si passa ad esercizi che possono essere ricondotti anche attività di coding sulla scacchiera gigante e poi sulla scacchiera normale un gioco che può essere praticato poi una volta che si conosce le regole all'infinito e da tutti noi sì assolutamente sì è un gioco che può essere praticato a qualsiasi età ma soprattutto da qualsiasi tipo di persona persone che hanno delle disabilità e proprio il mese scorso abbiamo partecipato ad un torneo dove c'era un signore di 97 anni che ha giocato con un bambino di 6 e si può veramente mettere insieme tante generazioni diverse tante giovani leve stanno crescendo tra loro c'è qualche giocatore già diventato famoso di scacchi sì in Italia sta crescendo moltissimo il movimento giovanile iniziamo ad avere degli ottimi risultati con tanti grandi maestri cioè con la categoria più alta che si può avere negli scacchi Scacco al Bullo è un particolare progetto che si ricollega alla tematica di quest'oggi con Lucio Ragonese parliamo appunto di quello che è stato proiettato per gli studenti presenti durante questa mattinata scacco al Bullo viene fuori da una partita di scacchi viventi però tematica sul tema appunto del bullismo noi abbiamo fatto vari convegni sul bullismo e questa è una cosa che è venuta un derivato è venuto successivamente è praticamente una partita in cui il bullo che gioca velocemente vuole battere la classe perché è più più forte più 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 violento insomma diciamo invece c'è una classe più riflessiva più tranquilla e poi nel momento che la classe sta vincendo succede qualcosa che il più distratto della classe appunto fa cadere i pezzi e il Bullo vuole che si continua con i pezzi che sono rimasti sulla scacchiera perché vede che ha una posizione che sembra vincente sembra in cui lui è in vantaggio invece questa supremazia di pezzi di materiale non si verifica perché c'è una diciamo una bella conclusione fantasiosa in cui chi sembra che sta perdendo invece riesce a prevalere e a vincere a scacchi provate a cercare una soluzione per fare vincere il nero c'è qualcuno che vuole che vuole aiutare la classe o facciamo vincere il romoletto allora la prima mossa che fa il nero è cavallo c2 scacco tocca andare avanti a questo punto l'unica mossa del bianco è allora c'è scacco quindi deve difendere il re allora re a1 e re b1 avanti questo punto c'è qualcuno la mossa però dovete dire allora cavallo a3 scacco unica mossa il re va in a1 avanti adesso regina dove donna b1 uno scacco va bene il bianco ha una sola mossa qual è? torre prende regina e a questo punto cavallo c2 scacco matto e la storia naturalmente finisce con la morale che il bullo viene re introdotto nella classe e quindi sta meglio si accorge che sta meglio insieme agli altri e non da solo prevaricando insomma la città di San Severino da quest'estate è nota anche per una particolare partita quella che viene giocata vivente sì sì in molte città e quindi pure a San Severino è stata fatta una manifestazione con la partita dei scacchi viventi la partita dei scacchi viventi praticamente è una rappresentazione che viene compresa anche da chi non conosce gli scacchi perché vedere dei bei vestiti una scacchiera gigante il pubblico è una delle cose cioè senza entrare nella tecnica di gioco che quella è comprensibile soltanto a pochi giocatori per interessare per fare una pubblicità ci serve interessare tutti uno sport in forte ascesa in questi ultimi anni sì naturalmente questo si vede nei campionati soprattutto si vede sui giovani sui campionati giovanili oggi quando noi facciamo il campionato italiano giovanile ci partecipano mille giocatori mille giocatori coinvolgono le famiglie perché appunto i bambini non vengono da soli ai tornei quindi abbiamo una cosa anche turistica diciamo che sposta 3.000 4.000 persone tutte in una settimana che si gioca il campionato italiano giovanile a raccontare infine la propria esperienza personale Graziano Cervelli agente di polizia nonché controllore dell'azienda Contram Mobilità buongiorno a tutti io sono Graziano Cervelli agente di polizia amministrativa e faccio dei controlli a bordo degli autobus sui biglietti e abbonamenti mi capita spesso di incontrare voi ragazzi e a volte però in maniera poco piacevole in quanto magari il bullismo non è contro solo contro i vostri coetanei ma inavvertitamente viene fatto anche contro persone più adulte quindi a volte ci troviamo di fronte al ragazzo che per emergere di fronte ai propri amici ci fornisce false generalità non sapendo magari le ripercussioni che potrebbe avere a livello penale poi a volte ci vengono segnalati episodi di bullismo a bordo dei mezzi di trasporto e quindi siamo costretti da intervenire ma andiamo solo a verificare che queste cose siano poco gravi e magari prendiamo singolarmente l'individuo che bullizza i suoi amici non proprio e magari preso in disparte singolarmente riusciamo a fargli capire che sta compiendo delle cose non proprio consone ecco personalmente mi è capitato anche di un ragazzo che mi ha credito proprio fisicamente poi grazie all'intervento dei carabinieri siamo riusciti a far ritornare la situazione sotto controllo però ecco sto giovane ha subito delle conseguenze penali perché è stato rinchiuso in un istituto minorile perché poi avrà conseguenze anche in futuro quindi io vi vorrei invitare a divertirvi giocare ma nel limite delle regole ecco perché poi non è corretto fare fare del male essere cattivi o essere aggressivi nei confronti dei ragazzi più deboli grazie a tutti e arrivederci grazie grazie Graziano per la sua testimonianza grazie a tutti Grazie a tutti.